C'è un fatto di cronaca che è accaduto in questi giorni veramente che mi sta continuando a ronzare il cervello e è quel fatto accaduto ad Anzio. Io ci pensavo già ieri sera di come è possibile che nessun politico, nessun telegiornale, nessuna radio abbia approfondito bene, bene, bene questa cosa perché culturalmente parlando è veramente deprorevole. Ma la cosa che è ancora peggiore sono i commenti delle persone su X che ho letto questa mattina sotto un posto di Repubblica. Persone che sono naturalmente italiane e davano la colpa di tutto questo al fatto che...